Bella Spidey Gang, sono Spider Casas e oggi voglio farvi vedere due action figure di Marvel che appartengono al secondo film di Spider-Man 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bene ragazzi, iniziamo da questa action figure Questo è lo Spider-Man Glider Car Se ricordate bene questa action figure l'ho usata nel video di Spider-Man vs Venom che era uno stop motion che ho fatto qualche settimana fa e praticamente cosa posso dirvi è stato davvero divertente usare questa figura è ben fatta, è ben articolata, ha un buono scolpito davvero raga se volete vedere lo stop motion vi lascerò qui il link in descrizione questa action figure l'ho comprata usata e da quando l'ho comprato diciamo che è diventata una delle mie action figure preferite perché è davvero ragazzi, è fatta benissimo ha davvero grandi articolazioni, grandi dettagli e per me è praticamente uguale al film è raro trovare queste figure in ottime condizioni perché teniamo conto che questa figure è uscita tipo al 2004-2005 se non sbaglio ditemi se sto sbagliando o ditemi in che anno è uscito veramente e boh raga cosa posso dirvi? vi piace o non vi piace? per me è figo e da un'altra parte abbiamo lo Spider-Man Web Trap questo mi è piaciuto davvero molto di più rispetto all'altro Spider-Man che abbiamo visto in precedenza e davvero c'è ragazzi è davvero incredibile questa figura, è impressionante voi cosa ne pensate? ne vale la pena? o non ne vale la pena? e beh raga cosa posso dirvi? la verità è che molti Spider-Man Marvel Legends sia quelli di Toy Beats e di Hasbro sono davvero molto difficili da trovare per esempio parlando della Toy Beats sempre di questi film della trilogia di Spider-Man io ho cercato per molto tempo lo Spider-Man Scooter Pizza e finora non sono riuscito a trovarlo spero che un giorno riuscirò a trovarlo a un buon prezzo e ovviamente spero di ottenere molti di più di queste figure sempre relativi alla trilogia di Spider-Man con questo concludo il video spero che vi sia piaciuto il video e spero che vi siate iscritti al mio canale e niente ci vediamo al prossimo video bella ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.